Riprendiamo l'esame delle icone che troviamo nel menu dell'editor delle pagine Jomla. Eravamo arrivati al bottone delle immagini già commentato. Quello che segue potrebbe essere definito il bottone per i copioni. Copioni, a dire la verità, lo siamo un po' tutti. A chi non è capitato di andare a curiosare il codice di qualche altra pagina non nostra, notare un blocco interessante, copia e incolla. Il problema è che spesso ci si tira dietro del codice che non siamo sicuri se possiamo togliere senza interferire negativamente sul risultato. Questo bottone serve appunto a questo, a pulire il codice disordinato, mi aggiungo io, probabilmente copiato da altri. La pulizia del codice potrebbe anche togliere delle parti che interferiscono col funzionamento di Jomla stesso. Certo, il risultato non è garantito. E se vi state chiedendo, ma perché il codice che io potrei incollare qui, e che sto, tra virgolette, copiando, anzi, anche senza le virgolette, dovrebbe contenere parti inutili? Perché quello stesso codice potrebbe essere stato creato con editor un po' invadenti, che aggiungono dei commenti, delle parti un po' ridondanti, delle parti che dovrebbero assicurare la compatibilità con tutti i possibili browser di questo mondo, a volte in modo fine esagerato, e fanno perdere un po' di vista qual è il significato vero di quel codice. Bene, ecco, la pulizia potrebbe servire anche a quello. Poi, rapidi, sul bottone che richiama l'help, non ci perdo tempo, questo invece è interessante, l'html, per chi ne sa un pochino di questo linguaggio descrittivo del contenuto delle pagine web. Non è raro, con questi sistemi automatici, non riuscire a volte a ottenere dei risultati anche apparentemente semplici. Può essere di grande aiuto andare a curiosare il codice che corrisponde a ciò che stiamo vedendo sulla pagina, e dare la zampata del programmatore, o meglio, dello sviluppatore web. Ma anche programmatore, se poi quello che stiamo inserendo, modificando, è uno script javascript. Immaginiamo che per qualche motivo io non riesca a ottenere, usando l'interfaccia grafica, insomma questi bottoni, a cambiare il colore dello sfondo della lista in generale. Sapendo un po' di CSS, aprirei questa finestra sul codice sorgente, mi piazzerei in corrispondenza della mia lista, e andrei ad aggiungere un bel background e poi il colore desiderato. Ci sono modifiche che vengono rifiutate però dall'editor, soprattutto quando si tenta un po' di inserire del codice javascript. Ecco, non ho intenzione di vederlo adesso, però ve lo accenno così, nel caso potete farlo in cerca con Google. C'è la possibilità di andare a cambiare il file di configurazione di questo tiny editor, tinymce mi sembra si chiami, disabilitando l'opzione automatica di pulizia del codice, cioè quella che pensa che tu abbia inserito dalla spazzatura, invece di codice utile, e tu scrivi e lui toglie, e così via all'infinito. Ed è abbastanza frustrante. Vediamo un po' se questa innocua modifica viene mantenuta, aggiorno, sì, non l'ho spaventato a sufficienza. So di fare della bieca pubblicità a me stesso, ma vi ricordo che c'è tutta una nutrita playlist di carta all'HTML 5, e ai CSS livello 2, ma anche livello 3. Rapido, rapido, anche sui bottoni che permettono di inserire la data attuale, l'ora, o che permettono di cambiare il colore del testo. Curiosate anche qui, nel caso non vediate qua il testo, il colore desiderato. E questo è per lo sfondo. Ok, ho ottenuto una cosa completamente illegibile, fantastico. Se preferite lavorare comodi, attivate, e poi potete comunque ritornare indietro, la modalità di lavoro a tutto schermo. Eccola qui, in tutta la sua gloria, clic a modo interruttore, e si ritorna alla dimensione standard. Ho fatto un po' di pulizia per introdurre il bottone che consente di inserire una tabella. Qua possiamo stabilire ciò che potete aspettarvi, il numero di righe di colonne, il padding, cioè il margine interno alle celle, quindi quanto spazio deve essere lasciato tra il bordo di una cella e il suo contenuto. E la spaziatura tra le celle stesse. Non vale forse la pena fare un esempio. Diciamo 4 colonne, 5 righe. Per il momento lasciamo il padding al valore suo di default, e anche la spaziatura. L'allineamento ci interessa, mettiamo un bordo, ok, e vediamo il risultato. Se non si specifica larghezza e altezza, sarebbe il contenuto a deciderla, ma siccome non ho ancora messo nulla nelle celle, avremo questo come risultato. Questa è la cella sulla prima riga, prima colonna, e dovrei inserire il contenuto per farla espandere. C'è sempre la possibilità di tornare sulle proprietà, andando con il cursore all'interno della tabella, e rifacendo clic su questo stesso bottone, che agisce in un'area libera da elementi come inserimento, oppure, come ho appena fatto, modifica tabella. Provo adesso ad aumentare il padding, il margine interno. Esalero un pochino. 10. Aggiorno. Ed ecco quello che si ottiene. Quindi il 10 è lo spazio che viene lasciato tra il bordo delle celle e il contenuto. Quindi lo spazio bianco, ad esempio, prima della prima A, ma anche quello superiore. Proviamo a incrementarlo. 30. Il testo è lo stesso, ma ho incrementato il margine interno. Posso anche allontanare tra di loro le celle. 20. Ma forse vi starete domandando, ma 30, 20, 50 che? Qual è l'unità di misura? Non sto ponendo questa domanda perché probabilmente tra voi ci sono diversi sviluppatori che già sanno qualche cosetta di HTML, anzi, di CSS. E sanno che nel sistema moderno di impaginazione dovremmo ragionare in termini di o di pixel, di punti sullo schermo, o di percentuale, percentuale, dire che un certo elemento sulla pagina occupa il 10%, 20%, 30%, 100% in orizzontale e verticale, o le misure EM che non sto adesso ad approfondire, ma che prendono, dico solo questo, come riferimento, la dimensione dei caratteri standard. In base a quello riproporzionano tutto il resto. beh, niente di tutto questo, perché quando noi andiamo a specificare, dico io purtroppo, il padding e la spazzatura delle celle, non stiamo utilizzando delle regole di stile CSS, ma semplicemente l'HTML. ve lo dimostro, basta fare clic sul bottone HTML, andare a curiosare il codice, eccolo qua. se preferite agire con CSS, lo si può fare andando a lavorare sulle classi di appartenenza dello stile e nelle proprietà avanzate della tabella che prevedono qualcosa riguardo allo stile. Poi magari faccio qualche tentativo, qualche prova. Per ora quindi accettiamo questo 30-20, penso che corrisponde poi tutto sommato ancora ai pixel, ai pixel, però non possiamo scrivere pixel, neanche mettendo 3 pixel, perché rifiuterebbe, vedete, il padding deve essere un numero. Ok, ci adeguiamo. Mettiamo un più pratico 5 e 3. L'allineamento, sinistra, destra, beh, giusto per provare. Ops, ecco qui. Si è spostato tutto. Quindi, l'allineamento non è del testo in sé, ma della tabella in sé, quindi è l'intera tabella che viene allineata a destra, a sinistra o centrata. Va bene. Sono tutte cose molto intuitive, spero. Quando invece andiamo a specificare larghezza e altezza, qui sì che possiamo sbizzarrirci. Potremmo dire, ah, la mia tabella è larga 300, senza dire nulla, alta 200, no, 400. Aggiorno. Ecco il risultato. e anche qui vengono intesi come pixel. Però, a differenza di prima, posso essere esplicito, anzi, guardate, ha aggiunto lui, a meno che parlando mi sono imbambolato e senza rendermene conto ho aggiunto io il pixel, ma non mi sembra. Un'altra forma è quella percentuale. Potrei dire, no, guarda, la mia tabella deve occupare il 100% dello spazio. Altezza va bene, 400 pixel. Aggiorno. E ok, tutto viene ridimensionato in modo da occupare il 100% dell'area disponibile, eccetto un piccolo margine che dovremmo andare un po' a lavorarci ai fianchi con delle regole CSS preliminare. poter specificare una dimensione usando una percentuale è interessante, perché posso mantenere in qualche modo fisse, anzi, posso, nel senso che si adattano alla grandezza della pagina le proporzioni dei miei oggetti. Se io dico che comunque sia la mia tabella deve occupare metà dello spazio sulla pagina, anche quando l'utente va a ridimensionare la pagina stessa, allora tornano molto comode. Però non è detto che la posizione impostata qui nell'editor e che sembra funzionare l'anteprima sia funzionante anche nel sito quando questa pagina verrà incastonata e inclusa nel suo contenitore. Dipende proprio da come sono stati impostati i template. Qualche volta funzionerà, qualche volta no. Ora proviamo comunque, perché voglio anche sottolineare come certe caratteristiche che potrebbero essere in modo ingannevole pensate come applicate a tutte le celle in realtà quando lavoro a livello di tabella non lo sono come nel caso del colore del bordo vado nelle avanzate imposto il colore del bordo la sfumatura del rosso applico aggiorno poi salvo la pagina e la vado a richiamare nel browser ecco cosa intendevo aspettate un attimo tiro un po' su il bordo rosso è stato applicato soltanto per i quattro lati esterni della tabella i bordi interni sono quelli delle celle dovrò quindi agire sulla cella notate anche come ridimensionando la pagina non è che si metta al centro perché in qualche modo la gabbia la sta di impaginazione la sta imprigionando la tabella intendo in quella posizione che non è certo center o meglio lo sarà probabilmente ma in riferimento a qual è il contenitore il div il layer lo strato che sta incorporando in questo momento la pagina che stiamo vedendo guardate infatti cosa succede se io copio questo stesso codice html sapete che lo posso richiamare con questo bottone abbiamo visto appena prima lo copio e poi lo incollo in uno dei 3 miliardi di editor io sono abituato recentemente a usare questo comodo edit la versione gratuita dicevo comando la creazione di una nuova pagina di tipo html5 new file front template ma potete anche usare il blocco note eh signori ricordate però di salvare il file con l'estensione .html o html tengo l'intestazione col body però che era vuoto io in pratico ho aggiunto questa parte in partenza quando ho chiesto di creare una nuova pagina mi sono trovato in questa situazione ho incollato ho salvato la pagina poi la ricarico dalla cartella di windows oppure quasi sempre gli editor hanno un richiamo per vedere l'anteprima diretta con i browser installati sul tuo computer questi sono i miei scelgo firefox ecco qui la tabella molte cose sono identiche il bordo rosso è solo quello esterno d'accordo guardate però quello che succede qui quando ridimensiono la pagina due cose lo spazio occupato in orizzontale è sempre il 50% ed è palese se ingrandisco si ingrandisce anche la tabella e la posizione è sempre centrata però quando questo stesso codice viene a sua volta incasellato in un contenitore che ha le sue regole è quello che lo strumento automatico come Joomla va bene ma qualche volta anzi quasi sempre poi ci toglie un po' di flessibilità però i vantaggi sono onestamente enormi torniamo in modifica sulle proprietà della nostra tabella nell'editor Joomla l'adidascalia è un'intestazione che possiamo applicare alla tabella attenzione perché è un po' strano nel senso che io scelgo ma poi apparentemente dice ma dov'è che vado a scrivere questa benedetta adidascalia devo prima aggiornare e poi vedete che mi si è aperto uno spazio qua nella zona superiore elenco in cui posso scrivere qualcosa a livello di codice è gestita in modo particolare la cosa possiamo curiosare viene aggiunto questo tag caption che è utile anche poi per i motori di ricerca avrete notato che la caption poi è anche automaticamente centrata nello spazio della tabella stessa per cui andando a modificare la larghezza la posizione relativa della adidascalia rimane tale quale comodo voltiamo pagina nelle proprietà avanzate l'id l'identificatore ha un senso solo per chi conosce un pochino di html e javascript e css come al solito giusto per capire che cosa corrisponde elenco entrate apparentemente nulla a livello visivo quello che succede è dietro le quinte richiamo l'html e notiamo che è stato attribuito al blocco della tabella il suo identificatore che è quel elenco entrate poi chissà come gestirlo si faccia sotto gli altri possono tranquillamente ignorare senza problemi anche il sommario corrisponde all'inserimento nel codice di un tag che viene sfruttato dai motori di ricerca per lo più aggiorno il bircio di nuovo il codice e dove eccolo qua summary prova sommario a dire la verità ora che ci penso sia la caption per il summary possono avere anche un'utilità che è ben più di quella che può apparire perché può aiutare le persone che hanno difficoltà a leggere lo schermo perché questi tag possono essere intercettati da uno screen reader quei programmi che scandagliano e leggono con voce sintetica proprio il contenuto della pagina web visualizzata come è facilmente intuibile la casella style rispecchia in forma di regole stilistiche CSS le impostazioni che abbiamo configurato ad esempio sulla scheda precedente o aggiunto noi direttamente nel codice si tratta quindi di una sintesi che a colpo d'occhio ci dà l'idea della formatazione in uso non solo ci dà anche la possibilità ovviamente di modificare e aggiungere qualcosa se non intendete come al solito di queste cose lasciate perdere la lingua permette di indicare qual è l'idioma di riferimento per la tabella possiamo anche saltare più interessante invece è la possibilità di applicare un'immagine sullo sfondo della tabella il solito quale provo con quello ecco qui tornando al pannello delle proprietà avanzate evito di spiegarvi la cornice le regole perché andrebbero a generare del codice che non è compatibile con l'HTML5 per dirla tutta anche il sommario non lo sarebbe stesso discorso per la direzione del testo sono tutte caratteristiche che dovrebbero essere impostate con i nuovi standard CSS per il colore del bordo questo è il suo codice la casellina stile ci conferma che l'implementazione è invece tramite CSS per lo sfondo adesso abbiamo solo l'immagine ma potrei impostare anche un colore e vederlo rispecchiato qui da qualche parte eccolo qua background bene questo chiude sia l'esame dell'icona per l'inserimento di una tabella che la corrente video lezione grazie a tutti grazie a tutti